Di origine duecentesca la Torre dei Ghisilieri, dal nome della famiglia a cui apparteneva, è nota anche come La Convertita. È infatti il campanile della chiesa di San Gregorio e Siro dal 1532. Questa torre, situata tra i palazzi delle vie Nazario Sauro e Monte Grappa a Bologna, è difficile da riconoscere. La torre è alta 22 metri.